Ci sono volontari? Nessuno? Chiamo io? Giulio, vai! Me la sto facendo sotto. Spacca i miei. Vuoi andare in bagno? Vai? No, è alla lavagna. Alla lavagna? Volontario? Certo, benissimo. Vieni, vieni. Forza Giulio. Però vorrei sentire anche qualcun altro. Vediamo un po'. Chiamiamo, chiamiamo. Maggi. Vieni tu? Proviamo a recuperare questo 5? Dai. E allora, cominciamo. Scrivete, aperta tonda, un mezzo x più un terzo xy più due terzi y. Bravo, Giulio. Pietro che fa i copi dal compagno. Dai, vieni per favore. Maggi, io non posso che confermare il 5. Non ha neanche concluso. Prof, però così mi toccano i corsi di recupero. Che però non è per forza un male. Dai, vai. Mi dispiace. E invece, pacca miei, bravo. Quasi quasi ti do un 7. Come quasi quasi? Me lo dassi o no? Sì, dai. Lo scriva, lo scriva. Eh, va bene, dai. Sette. Grazie, bro. Sei stato un grande, Giulio. Sì, un grande. Ma io lo voglio sentire da Pietro. Pietro, Pietro, se vuoi ti posso aiutare io in matematica. No. Oh, Livia, ma perché non ti saluti più? Sei tornata dei tuoi vecchi amici, eh. Perché non mi stai zitte? Hai visto Livia? Sei finalmente liberata di quelle serpi. Ma perché ancora insisti? Io e te non siamo più amici, Giulio. Ma ci conosciamo da sempre. Io di un amico devo potermi fidare. E di te non mi fido più. Questo è Giulio, poi Isa, che è l'identica. E' uguale. Vero. Sono uguali. Io ho quelle cuffie. Giulio, ma tu che l'hai scaricato? Da qua. Tutta farina del mio sacco. Secondo me è bellissima l'idea che noi siamo i personaggi e che vince chi scappa da scuola. Scusa, Giulio, ma questa sarei io? Certo. Ma è pazzesco. No, poi è figa l'idea che possiamo giocare tutti insieme. Tu hai aperto il gioco che ti ho mandato? No. Sbagli. Sbagli di brutto. Perché il gioco l'ho creato per giocare con voi. È un gioco che si gioca solo in gruppo. Solo multiplayer. Da solo non va da nessuna parte. Bisogna rimanere uniti. Come eravamo prima di litigare. Poi, litigare per cosa? Sì, una cosa bella. Impossibile. Il punto è... Noi non siamo uguali agli altri. Siamo diversi. Non è un gioco qualsiasi. È lo spirito della terza D. Giulio, aspetta. Giochiamo insieme. Finalmente. L'anno prossimo possiamo collegarci durante l'intervallo. Così, come se fossimo nello stesso liceo. Non girare il coltello ne ho la viaga. Com'è che avevi detto? I veri amici rimangono tali anche se non vanno nella stessa scuola. Finalmente l'hai capito. Oh, io ci sono. Vai. No, ma ci hai messo tutti quanti. Certo. Hai fatto pure l'IVA con i capelli blu. Vai, io prendo il mio. Pia, dai. Sei pronto? Vai. Cosa devo fare? Scappa, seguimi. Oh, non c'è il presidente. Eh, certo. Non ti riesco a fare. Così ti prende. Vai, vai. Vieni qua, salta. Giulio, non mi funziona la password per entrare sul sistema. Come non ti funziona? Io, io... Cos'hai combinato? Sei un cretino. No. Subito che lo possiamo sistemare. Ok, subito. Sto tornando. Ok. Cos'hai combinato? Beh, ha provato a iscrivermi all'alberghiero. Ma non gli funziona la password. Beh. Perché... Beh. L'ho cambiata io. No. Quindi senza password non vado a nessuna parte. Questo è il mio migliore amico. Quando ci vuole, ci vuole. Vabbè. Ora scappo. Ciao. Il mio amico Pac è un grande, oh! Il mio amico Pac è un grande, oh!